Cambia la mappa delle autorità portuali in Italia, perde autonomia il porto di Catania, a differenza di quanto erroneamente indicato nel primo comunicato del Ministero dei Trasporti, infatti, la città etnea rientrerà nell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, con sede ad Augusta. Palermo sarà capofila dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, che include Trapani, Termini Merese e Porto Empedocle, mentre Messina, con Milazzo e Tre Mestieri, insieme ai porti calabresi di Gioia Tauro, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vivo Valencia, troverà posto all'interno della nuova autorità dello stretto, la più grande tra le nuove autorità italiane con sede a Gioia Tauro. Come infatti previsto dalla riforma approvata dal Consiglio dei Ministri, le autorità saranno riorganizzate in 15 autorità di sistema portuale, a fronte delle 24 esistenti prima dell'approvazione del decreto presentato dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. con un taglio annunciato di 270 poltrone nei porti. Tre sono gli obiettivi principali, far ripartire gli investimenti, migliorare il coordinamento tra le autorità e ottimizzare risorse e procedure, a vantaggio dei cittadini e imprese.